Non è stato solo un'occasione in più per far festa o rendere ancora più colorato e animato il corso e la piazza 20 Settembre. Un carnevale da cani è ormai entrato a pieno titolo nel palinsesto della manifestazione carnascialesca fanese ed è attesissimo e gettonatissimo dai cinofili. Ma è soprattutto un modo per focalizzare l'attenzione delle persone e fare sensibilizzazione sulle adozioni degli amici dell'uomo e soprattutto quelli portati al canile. Infatti erano presenti in piazza i responsabili del canile Melampo con diversi ospiti quadrupedi della struttura e i collaboratori debitamente mascherati ma non a caso. Abbiamo deciso di vestirci da barba papà, famiglia barba papà perché il messaggio della famiglia barba papà è un messaggio molto bello, è un messaggio di apertura, è un messaggio di aiuto, di comprensione. Allora siamo in compagnia di un bellissimo gruppo sia dai contuntori che anche dagli animali, che razza bellissima è questa? Dunque questi sono Bovari del Bernese, sono cani svizzeri, ormai sono presenti da tutte le parti perché è una razza molto amata, soprattutto è diventato un cane da famiglia, mentre prima era un cane da fattoria. Penso anche voi, complimenti per la sede del costume, siete degli elfi. Dunque siamo delle fate del bosco con delle farfalline. Infatti le fate del bosco, più che farfalline direi delle farfallone. Non molto leggiadre come farfalle, però dai era carina l'idea appunto di questo contrasto tra la pesantezza dell'animale e la leggiadria della farfalle. Loro, da raccolta differenziata, ecologica. Eh certo, certo. La raccolta differenziata, ovviamente il vetro, il metallo e la plastica. Calati proprio appieno nel tema. Complimenti. Grazie. Scusi, ma vola anche? Vola? Eh, magari volasse. Bisogna farlo. Il mantello ce l'ha per il momento, poi vediamo. Lui cerca Wonder Woman, dice Wonder Woman dov'è? Perché non c'è? Mi attrezzerò al prossimano per portargli anche Wonder Woman. Uno c'è e gli altri 100 che fino hanno fatto? Eh, li abbiamo lasciati a casa. A casa, erano troppi impegnativi. Troppi impegnativi, è bastato uno rappresentativo. Complimenti. Grazie. Ho! 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 Let the dogs... Ho!